E quindi vogliamo trasformare un posto famoso per la nuova in un posto famoso per la gioia. Abbiamo pensato di realizzare un cash flow che dia gioia a tutti e ci fa libera vita, è fantastica. Non lo scopo che cosa dice, oggi non sarà lui a rendermi felice, la mia giornata inizia carica di positività. Al servizio della collettività, decido io come deve andare e la mia vita non la posso più sprecare. La musica è felicità, si salta, continua, non fermarti, metti la più alta. In giro per le città, ho creato la ricetta della felicità. In giro per le città, ho creato la ricetta della felicità. Segui la ricetta, non andare di fretta, concentrati, realizza la vita che ti aspetta. Sappi che però ogni istante è prezioso, giornata fantastica, il tempo è favoloso. Energia, arte e fantasia, vivo la mia vita come se fosse magia. Dentro al quarto insieme agli altri per rigenerarti, l'unione fa la forza, non puoi più fermarti. Vibrazioni, sopra questi suoni, portano alla scoperta di nuove emozioni. Lezioni quotidiane ci insegnano qualcosa, la vita è una ed è meravigliosa. In giro per le città, ho creato la ricetta della felicità. In giro per le città, ho creato la ricetta della felicità.